Buongiorno a tutti, ciao belli, ciao belli, ciao ciao Allora, stamattina ho il cappello E poi capirete perché Sicuramente chi mi segue su Instagram già lo sa Perché l'ho pubblicato su Instagram stamattina E quindi niente, mi sono rasata la testa Non so quando vi metterò questo video Probabilmente quando vi metterò questo video Avrò già messo un altro video in cui vi spiego che mi sono rasata la testa Quindi, comunque Ho provato ad usare la Beauty Blender stamattina Ma Sarà che probabilmente è ancora troppo bagnata Cioè non è bagnata perché non gocciola Però è umida E mi sembra che quando sono umida così Tolgono il trucco Io, ma che vedevo Comunque da piccola cara è diventata enorme Allora, stamattina ho deciso di fare un make up Che non è venuto per niente come volevo Anzi Zero proprio E Però vabbò Allora vi faccio vedere Allora Sono leggermente meno diradati dell'altra volta L'altra volta l'ho messa molto peggio Però non voglio intendere E purtroppo ragazze Mi babbo dice bene Il cervello non è una cosa che si compra E se non ce l'hai E non ce l'hai E non ce l'ho Fate questo E non avendo cervello Tutte le volte insisto a rifarmi queste cazzo Ostie Tutte le volte continuo a farmi Ora non ho i capelli Ora non ho i capelli Da dove mi arrivano i capelli Non si sa Continuo a farmi Queste benedette trecce Allora non è che le trecce sono deleterie Vi mostro questa palette Perché è la fine del mondo Io l'ho pagata 5 euro su youtube Ma che cazzo sono 5 euro su youtube 5 euro su ebay E insieme a quella della beauty glazed Sono le palette migliori Che io abbia provato Da Un po' di tempo a questa parte Ma perché migliori? Perché comunque il rapporto qualità prezzo fa panico Perché non costano niente Perché non costano niente E hanno una qualità bestiale Quindi Sono fantastiche Allora la palette è questa I magic Sono 16 colori E Eyeshadow palette Allora Naturalmente c'è Il suo specchione all'interno E questi sono i colori Allora La cosa che oltretutto è bestiale Non sono solo i matt Ma sono pure i glitter Allora adesso vi swatch un po' Il prodotto Vi swatch un anzitutto questo Non so se vi rende l'idea Allora Allora Questi prodotti qui Quelli glitterati Io so allibita Hanno Una consistenza del prodotto Gommosa Il prodotto viene Lo sentite gommoso Quando andate a cosare la palette A cosare la palette Ma che cazzo dico sta manice Quando andate a prelevare il prodotto Sentite il Il prodotto Morbido Scusate mi devo Levasso Mi devo cambiare l'ip perché non lo posso vedere Ok meglio Perché quell'altro era troppo chiaro Mi sono data il NYX suede Brooklyn Togne Allora Mentre prima c'avevo il Nabla Però il Mi del karma Ma era troppo chiaro Ci stava benissimo Somi della mac Ma mi sto dando solo ed esclusivamente quello Da quando mi è arrivato Quindi Agami A variare un po' Comunque Io so allibita Cioè io ho palette Che costano una balla Veramente un sacco di soldi Che non hanno la pigmentazione Che ha questa palette Quindi cioè io Che vi devo dire Cioè ragazze Quando una cosa è valida È valida E più che altro Ti lasciano queste cose A bocca aperta Perché Cioè te prendi una palette Da 5 euro Allora a parte che oramai Su Instagram Come sapete Come sapete Ci sono un sacco di aziende Che cominciano a vendere prodotti E li vendano tramite Instagram E cominciano appunto Da lì Tramite sponsorizzazioni Di youtuber Tramite blog Tramite account Instagram stessi E ci sono rimasta male Perché veramente Non mi aspettavo Questa pigmentazione Allora Io non capisco che mi si forma A testa e hack Comunque Sono davvero davvero bestiali Cioè io Non so se vedete Allora vi faccio vedere Qualche matte Questo è quello caldo Questo è il violetto Gli ombretti sono molto morbidi Aspettate perché Questo l'ho preso male Allora Questo è un rosetto Che comunque Si vede poco Perché comunque Il colore è chiaro Vi faccio vedere Quelli un po' più belli In tempo Può aiutarmi Come fare con questa Benedetta Memoria Fatemi sapere Perché praticamente Non mi c'entra niente Allora Questi sono i due prodotti Più scuri Allora Questo dovrebbe essere Comunque un verde Vedete Però risulta nero Infatti anche nel trucco È venuto un po' più nero E questa è la pigmentazione Della palette Io figliole Allibita Sono rimasta Totalmente a bocca aperta Quindi Le ciglia finte Lo stesso Sono quelle di Ebay Anche queste pagate Nea miseria E quindi niente Allora Io ricercherò Naturalmente Il link della palette Ve lo metto nell'info box Però Il problema È che la maggior parte Delle volte Ne vendono poche Non è Il Il coso intero Cioè non è il loro negozio Quindi magari cercatelo Però cerco di trovarvela Sul Lo zigomo O eclipse Sulle labbra Ve l'ho detto Come fondotinta Che vi sono data Il rimel Quello lì Col tappo rosso Questo ok Sempre la cipria Della banana Sempre stesse cose Quindi Naturalmente Sappiate che il trucco Non mi piace Non è venuto Come lo volevo io Quindi naturalmente Ok Tanto non è mai Sono abituata che Voglio fare una cosa E non mi viene mai Come la voglio fare E quindi niente Spero comunque Che Mi si è scrocchiato il collo Spero che il video Vi tenga un po' di compagnia Che questo trucco Non vi dispiaccia Quanto a me Perché a me non piace Ve lo ridico Anzi ve lo mostro Allora ho notato Che quando fanno Le sexone No Però almeno Vi fanno vedere Il trucco In maniera bella Cioè nel senso Io ve lo Se mi metto così E ve lo faccio Almeno vedere Perché altrimenti Non vedo Il suo capito Ok Sfumature Roppa varia Ok Quindi cerco Di farvelo vedere Nel meglio Nel miglior modo E chi si è visto Si è visto Vi lascio Alla realizzazione Del trucco Naturalmente Non vi aspettate Niente Io vi mando un bacio Fate bravi Buona Pasqua E Ciao bimbe Siete la mia Più grande bova Ora vediamo Un po' cosa Viene Oh madonna Fuori E allora Allora Io mi do La base Del mio C3 La 3CE Che è una marca Curiana Presa da ebay Una vita fa Ed è ancora Completamente nuovo O comunque È enorme Allora Cercherò di fare Il lavoro migliore Che posso Anche se Non sono già Contenta Del mio trucco Perché mi doveva Venire in un modo E invece mi è venuto In un altro Perché poi Appena mi darò Un colore Vi spiegherò Perché Adesso faccio La figa Con questo Vi spiego Perché Perché pensavo Che non pensavo Il colore Che si vede Dalla palette È un altro E invece poi Andandolo a dare Sull'occhio Mi è venuto Un altro colore Quindi anche questo Blu Non so se è un problema Mio Allora Fatto ciò Spaparanziamo Nell'occhio Il colore più chiaro Questo qua Che è un semplicissimo Bianco Per aggregare Aggregare tutti insieme Aggregare tutti i colori Allora Come sapete Io non Scusate Ma con la mia nonna Ci vuole pazienza Allora Adesso Prendo Allora Lo sto incazzata nera Perché I pennelli Che uso sempre L'ho a lavar E questi sono Un po' più Pembro Da la lavar Sapete che la Si Sono pennelli Un po' peggiori Allora Uno Spaparanzatissimo E si prende Un marroncino Lo andiamo a sperperare Allora Stavo dicendo Che come sapete Io non vi insegno A fare niente Cioè io Non è che sto a fare Un trucco E vi insegno Come si fa Io vi faccio vedere E quel che ho fatto io E che si è visto Si è visto Volevo che venisse Questo verde Appunto Che non è venuto Perché in fondo Che questo sembra nero Ma doveva essere verde Porca minonna Ora dopo Ve lo faccio vedere Questo 3CE Ultimamente Mi sembra Faccia le righe Le rage Ok Adesso Sempre Con uno sfumone Però andiamo Leggermente più in basso Si prende questo Che è un colorino caldo E gli si dà Un po' Qui dove c'è L'occhio aperto E vedete la riga Mi fa così Di solito Per darmi Una Potition Le positive Begins Allora Questa palette Fa Panico Paura Io sto scoprendo Delle palette Da ebay Che a questo punto Però non sono fake Ma sono marche Cioè sono altri tipi di marche Cioè è venuto proprio come non doveva venire Poi non si deve incazzare Però vabbè Adesso con un pennello Leggermente più Dovrei ritrovare Per il cosino della Mon E qualcosa che puliva i pennelli Istantaneamente Prendiamo Questo rosso E questi due Allora Prima il rosso E lo diamo sempre in fondo Qui Questi ombretti Non è che sono pigmentati Di più E poi Un attimino Sotto l'occhio Ci spalmiamo Il bianco Tendo a non farlo Solitamente Ma L'ho fatto oggi Perché volevo vedere Che si Volevo far sì Che si vedesse Tutti i colori Mi avevano richiesto Una collaborazione Con delle parrucche E avevo scelto la mia Però sta parrucca A me non mi è mai arrivata E adesso In fondo Con il pennello Leggermente più fino Vado a prendere Sempre questi colori Quindi Un rosso E il viola Più Il mio intento Era questo Di fare Questo bel Rosso Comunque Tonicaldi Con il verde E poi Invece non mi è venuto Perché questo verde Non era verde E è venuto fuori nero E quindi Ce l'ha tirato Nella Sto scoprendo Queste palette Veramente esagerate Che poi comunque Le dovreste trovare Su Instagram Sono questi Brand Che ora su Instagram Mi fanno il botto E c'ho una notizia figa Che uno di loro Mi ha contattato Per una collaborazione E sono stravelice Questi capelli Fanno cagare Il cazzo Però Che se deve Così impari La cosa bellissima Di questi capelli È che appena Mi faccio la cresta E quella È una cosa Che io adoro Però Le pigliamo Come soriga Per forza Allora Allora Fatto ciò Andiamo sempre Un po' Io almeno Faccio così A sfumo Sfumo Ricordatevi Più sfumate E Più il lavoro Viene meglio Ora Io di là Ci ho messo Questo pic Vi faccio vedere Se riesco È verde Vedete Ecco E invece risulta nero Poi Che vedevo di Eccolo qua Vedete Risulta nero Non so Che cacchio Di problema Abbia La tosta Che me Risultava nero Vabbò E io lo vado A spalmare Con questo Che è un pennello Io c'ho Quello della MAC E non mi ricordo Il nome E il numero Però Ecco Questo di qua Comunque mi è venuto meglio Perché la sfumatura Si vede molto meglio Vedete Perché forse Ho usato Quello più piccolo Per sfumare il nero Ok Adesso vi faccio vedere Questi Che so Panico Paura E le prendo Con Questo qui E ce le spiattello Allora Prima Il Questo Allora Con le dita Vengono meglio Perché Ma hanno Proprio La consistenza Cremosa Cioè Se toccate L'ombretto L'ombretto Fa E si sposta E si sposta Il che vuol dire Che È Figo Cioè Ora mi metto il cappello Comunque Quando faccio video Poi ora comunque Arriva l'estate Farò tutto quello Che devo Per Rimettere in sesto I miei capelli E poi E poi giuro Ve lo dico ora Davanti a tutti Che se mi riraso i capelli Viene fuori un dramma Cioè Mi vedrete Praticamente Con il muso Scusato Perché me le do Finché le reggo Cioè Mi picchio Mi auto picchio Da sola Veramente In maniera Forte Cioè Farò dei danni Perché non è possibile Anche questa volta Avevo pensato Visto che comunque I capelli Non li ho tinti troppo Forse riesco ad avere Un risultato Non troppo brutto No Perché La seconda La terza volta Che me le sono fatte E infatti Me li sono levati Per benino Eh L'ho curati Non c'è stato bisogno Di ritagliarli E ora mettiamo Il più chiaro Eccolo qua Vedete il lavoro O no Però questa volta Ho preferito Fare così Innanzitutto Perché già L'avevo fatto una volta E quindi Il capello L'accusa Purtroppo Questo 3C Mi ha fatto Un lavoro brutto All'interno Meno male Voi non lo vedete Tramite Questo Non lo vedete Adesso Devo riuscire A Stendere di più Questo verde Come ho fatto Di là Ho Qui un pochino Di verde Si vede Se entro In questo chiaro Forse non si vede Perché Sotto C'erano dei colori Troppo scuri E allora Ho fatto danno In quel senso E appunto E appunto Vabbè questo Quindi Suova peggio E festa finita Mi sembrerebbe Che ci siamo Ma no Perché Di qua Siamo ancora più sfumati E Ho visto Un sacco Di ragazzi Cioè Un sacco Di voi A giro per il mondo Perché è Pasqua Bravissimi Grandi Vi amo Girate ragazzi Girate più che potete Perché girare il mondo È la cosa più bella Che c'è Dai Bom Lasciamolo così E Ma no Aspettate Perché di là Ci avevo messo Un po' di rosso Sotto Ieri sera Ho cominciato A rispondere Alle domande Quindi poi Adesso Farò il video Di continuo Dai Va bene Adesso Poi vi spiego La paletta All'inizio Del video Adesso Niente Basta Mi do Tanto il resto È già fatto tutto Mi do Rossetto Metto le ciglia finte E bom E vi La 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 E vi faccio vedere Il trucco All'inizio Del video All'inizio Grazie.